Ciao ragazze, eccomi qui con un nuovo video ed è un video recensione libri non è un video molto seguito sul mio canale, però c'è qualcuno che lo vede siccome io leggo, siccome è una mia passione, decido comunque di inserire questa tipologia di video periodicamente, ogni volta che finisco di leggere un libro ve ne parlo come sapete, se avete visto il video haul nel cui titolo cito proprio Selvaggia Lucarelli sono andata alla presentazione dell'ultimo libro di Selvaggia Lucarelli ed è di questo di cui vi voglio parlare che si intitola Dieci piccoli infami Dieci piccoli infami, è di Torizzoli, l'ho pagato 17 euro, quindi prezzo pieno la presentazione confidando nel fatto che me l'avrebbe firmato ma poi non ho fatto in tempo quindi ho deciso che la prossima volta arrivato ad un incontro vi faccio firmare questo e quello precedente che ci importa del mondo, ecco non mi ricordavo il titolo ho anche quello però sta a casa di mamma, ora che mamma viene mi ha detto che me lo riporta allora, Dieci piccoli infami, voi Selvaggia Lucarelli la presento ma non la conoscono tutti io ci sono particolarmente affezionata perché lei è di Civitavecchia lei ha frequentato il mio liceo classico, cioè io il suo perché l'è andata prima quindi il mio professore di filosofia e storia è stato anche il suo e tesseva le lodi di questa Selvaggia, di come scriveva lei infatti gestiva anche il giornalino della scuola quindi era stata presentata bene e io da anni e anni, io non ricordo, secondo me 15 anni comunque seguo il suo blog, seguivo il suo blog poi si è sposata con l'erte Pappalardo insomma il gossip di Selvaggia lo sappiamo Selvaggia fa radio, televisione, è scrittrice quindi per lo più scrive lei indica sempre questa sua voglia di scrivere sempre anche se sta in fila al gate, ci ha raccontato che scrive e a me il suo tipo di scrittura, a prescindere dal contenuto piace tantissimo secondo me è molto scorrevole, è moderna e non arriva mai secondo me alla volgarità quindi la leggo velocissimamente e per questo ho comprato il libro 10 piccoli infami, cioè 10 persone che secondo lei l'hanno segnata l'hanno segnata in maniera negativa tant'è che dice gli sciacurati incontri che ci rendono persone peggiori dice se sono acida come personaggio che conoscono tutti ci sarà un motivo e quindi lei racconta in 10 capitoli ben distinti tutti i vari incontri di persone infami secondo il suo punto di vista e racconta anche una parte di Civita Vecchia che conosco bene quindi lei parla ad esempio di Suor Clelia quando andava ha fatto elementari, medie e superiori dalle suore però Suor Clelia gestiva le medie mi sembra e quindi parla di Suor Clelia che l'ha influenzata in un determinato modo Mister Amuchina che è un suo ex fissato con l'igiene parla di del padre di un compagnetto che gli ha fatto un tentativo di molestia parla di un'amica che lei credeva tale dell'elementare ma poi non si arriva l'ata tale insomma tantissimi personaggi posso dire confermare la scorrevolezza della sua scrittura mi piace tantissimo e mi continua a piacere ma questo libro non mi è piaciuto diciamo lo recensisco in maniera negativa nonostante io lo abbia letto in quattro ore quindi in due giorni due ore una volta e due ore un'altra quindi è scritto benissimo è una storia piatta perché ogni capitolo inizia finisce è come un diario è come se noi spulciassimo in qualche modo un suo diario ma non mi ha preso il primo romanzo mi era piaciuto molto che ci importa del mondo perché faceva delle riflessioni molto più profonde e mi hanno colpito molto di più mentre invece questo è rimasto molto superficiale nonostante lei abbia comunque elaborato una sofferenza perché ritiene questi personaggi come causa di uno stress di averle poi peggiorato il carattere perché hanno inciso negativamente nella sua vita io questa sofferenza non l'ho letta quindi lei non è stata brava secondo me a emotivizzare mettere le emozioni su carta in questo libro sono stati un po' dei racconti asettici si vede che è una selvaggia molto meno tormentata rispetto al primo romanzo è molto più equilibrata cosa che ho potuto vedere nella presentazione assolutamente innamorata del suo nuovo compagno tant'è che dedica il libro a lui al figlio dice a Lorenzo che è il compagno perché se non avessi desiderato stare con lui avrei desiderato essere come lui e a Leon perché dopo essere stato il mio bambino preferito è ufficialmente il mio adolescente preferito e poi un'altra frase dice non vediamo le cose per come sono ma per come siamo e basta ragazzi non c'è tanta storia da raccontarvi perché appunto ogni personaggio ha una storia diversa e se volete leggetelo nel senso è proprio da estate perché lo leggete in un battibaleno vi fa compagnia vi fa fare anche qualche risata però se siete più in vena profonda di riflessione sicuramente questo non è un libro adatto è un libro estivo quindi che potete comprare ma a me non è piaciuto e soprattutto avevo troppa aspettativa dato il primo romanzo basta ragazze la recensione del libro termina qui spero vi sia piaciuta se l'avete letto ditemelo ditemi i vostri pareri e basta leggete l'info box iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima ciao ragazze muah muah grazie a tutti